Fogan, una bella dimostrazione, ulteriore dimostrazione di forza con una partita gestita dal primo al novantesimo e non è mai facile contro un avversario solido come Torino? Oggi non è stato facile per niente perché Torino ha avuto un gran possesso di palla poi chiaramente noi eravamo scesi in campo per vincere queste partite eravamo attenti e così è stato e poi abbiamo ritrovato il nostro compagno che è uscito dal Fortunio che giorno per giorno si migliora Gonzalo ha fatto veramente due gol che ha fatto un nostro vittorio Consigliata l'esperienza Torino, ora si va a Firenze è una partita abbastanza dura, la Fiorentina ha battuto la Juve quanti rischi ci sono lì? Noi sappiamo la forza di Fiorentina sono squadre forti, giocano un grande calcio poi noi dobbiamo andare là per fare il nostro gioco e poi alla fine si tene le somme A proposito di gioco, una buona vittoria, una buonissima vittoria forse è mancato il colpo del definitivo K.O. nella gestione della partita? Questo sicuramente sì, potevamo diciamo girare di più pallone e poi fare il terzo o quarto gol per chiudere senza rischi questa partita ma alla fine conto è vittoria e oggi abbiamo dimostrato che volevamo questa vittoria Inter, Juve, Fiorentina in campionato grandi avversarie adesso avrete anche la Champions la vostra analisi continuerete a dare il massimo sempre su tutti i due fronti quale percorso può essere più difficile? Secondo me ogni partita è difficilissimo perciò la squadra deve essere al top deve concentrarsi chi gioca deve dimostrare che siamo una grande squadra ogni giocatore che entra deve dare il massimo e finora il mister sta lavorando per questo e sono contento che chi scende in campo dà la sicurezza L'unico problema da risolvere non si potrà risolvere prima di gennaio qualche altra cosa probabilmente soprattutto nel vostro reparto dove siete praticamente contati in tre state facendo tutto Questo non è compito mio io sono pronto per ogni partita mi riposo bene per ogni partita poi la società non lo so loro decidono A detta di venire si pianfara il 65% cosa manca a questa squadra per raggiungere il 100% secondo te? Lavorare ogni giorno è duro dimostrare che siamo una grande squadra lui ha ragione e poi come detto si deve lavorare per migliorare grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori